Buongiorno a tutti, bentornati a una nuova puntata di TGQ con il vostro host Kulo Brando. Ecco le notizie del 7 aprile, oggi. Frank, Bologna... cioè però quindi ieri, perché tecnicamente queste sono informazioni di ieri, dato che sono le 11 del mattino, non sono ancora successe tante cose oggi. Frank, Bologna... mi dice che deve andare a prendere il prosciutto da Filti Monella e io fraintendo il messaggio. Doveva effettivamente prendere il prosciutto. Bolognina, Magic... i ragazzi organizzano un torneo di Magic, Raffa se ne va prima del coprifuoco dopo avermi battuto, dopodiché io batto Mons e P, quindi tecnicamente vinco io, e me ne vado a casa con la promo e sta carta super cute con un gatto gigante 2020. Moda, Groupies... vengono ritrovati alcuni reperti di Hava Clothing, i fanculo si agitano perché vogliono quel merch, e Kulo Brando preannuncia che a breve glielo daremo, e sarà molto più swag di tutte quelle magliettine gay che i content creator fanno per le loro gruppi. Iscritti, YouTube... sono più di prima. Ora passiamo agli inviati fanculo speciali. E' stato... l'opre ci informa che... fanculo l'opre ci informa che è stato schiammato il compito degli inviati. Dalla culonia questo è tutto, fanculo passo la linea, l'opre aka standing, e lo sai che non fotte con quei mobili, anche se il mio computer non lo sa perché non ha ancora capito come leggere le emoji. And that's a fact. Riccardo, Marcarini... ci informa che sta facendo la cacca e le contraddizioni addominali dovute alle risate lo aiutano molto. Grazie Brando, and that's a fact. Grande fanculo Riccardo. Fanculo Giugno, Coca... Il compito degli inviati... ci informa che il compito degli inviati è stato fanculato. Fanculo ai culi, c'è troppa puzza per il mio culo, fanculo. And that's a fact. Fanculo Lo YouTubiano ci informa che... Pazzi, sì, pazzi per il culo. And that's a fact. Allora, Franco, se non sei qui per salutare Mattia, o per darci delle informazioni, Franco, è il caso che forse te ne vai a fanculo da un'altra parte, perché in questa community noi salutiamo Mattia, ok? Senza scherzi, ok? Questo è solo un avvertimento, però non ti preoccupare, te lo perdoniamo. Però stai in occhio, Franco, stai in occhio. Fanculo El Io ci informa che ha fatto vedere il video a sua zia e ora è suo zio. And that's a fact. Fanculo Zaccaria Sehail... Come l'ho pronunciato? Ci informa che sta ancora aspettando di sapere cos'è una tottiana, Franco. Ancora, Franco? Dai, collega i puntini, Franco, cioè nel senso, te lo devo dire io. Fanculo Federico Bonini, detto Belen, ci informa che gli inviati torneranno. And that's a fact. Pazzo Cazzo ci informa che è una puntata molto varia. La bolletta dell'internet è arrivata. And that's a fact. E io cosa gli ho risposto, vediamo? Perfetto, perfetto. El Io ci informa che saluta Mattia, come al solito. Vedi, questo è un ottimo partecipante della nostra community. E Culo Brando ci informa che anche lui saluta Mattia e Mattia ci informa che ci ringrazia e che ci saluta e ricambia. Bene, questa è una community bella e carina, ok? Mattia Serra ci informa che ci saluta e Culo Brando ci informa che saluta Mattia e Giai Ponelli ci informa che saluta anche lui Mattia Serra. E Mattia Serra ricambia e Uppone saluta anche lui Mattia e Mattia Serra ricambia anche lui a Uppone. And that's a fact. Fabio, Fanculo Fabio ci informa, alla fine hai più saputo niente di mio zio? E Fanculo Tachipirine ci informa che Fabio lo saluta Mattia. Ed effettivamente è vero perché Mattia comunque lo saluta e Culo Brando saluta Mattia. Bene, questo è tutto per oggi, vaffanculo e... E un salutone a Mattia.